Le periche di da Palermo, vorrei porre una domanda sia a Marco Taradash che a Paolo Gozzanti, entrambi la stessa domanda. Nel caso in cui vinci, cosa ritieni che debba fare l'altro? Nel caso in cui invece perdi, quale pensi possesso il tuo ruolo? Vai via dal partito? Imposti un'opposizione? Insomma, che idea avete della democrazia interna, del partito lideristico, del ruolo, del dissenso interno? E' un pungolo? E' un peso? Se perdo non ci sto, vado a fare altro, non mi interessa più. Grazie.